no è un gigante è un trottolo è uno storione ciao ragazzi oggi siamo tornati al nuovo lago maggiore avevamo voglia di farci una pescatina in un posto tranquillo che comunque ha sempre reso abbastanza bene si muove non troppo tranquilla per la gente tranquilla speriamo di no per il pesce e quindi vediamo come va ci vediamo in acqua ciao belli cominciamo con questo sistema filo su un lancio per liberare oh è ancora lì è andato via no che cazzo è andato via cosa era guarda vai vai visto che devo liberare il filo se vuole mangiare a me va bene lo stesso ma non ci posso credere ma io non ci posso credere ho fatto un lancio per liberare il filo il filo su pesce tua porca vecchia cos'è che sei un paraculo dio caro sai che per il pesce primo lancio fa parte la figlia tutti così dicono intanto la presa eccola dai ridacci guarda ancora eccola mangiano proprio nooo che l'ho sentita bastarda ancora vediamo come pizzicano male nooo chissà la crancao nooo l'ho cannata eh vabbè cazzo è piuttosto che niente eh deve rimanerci a bocca a tavarevo solo ecco lo stroncio è in mezzo vedi eh eh ahahah no no vieni qua vieni qua vieni qua parca mezza grazie prego è meglio che vada a prendere il mio spazio a prenderne un'altra perchè non c'è il guadino ah bella infatti più bella delle altre nooo nooo l'hai persa guardate ah ma è comunque quella lamata ok ti allontana la dada qua guarda qua due togli proprio giornata quella avresto picciato eh no 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 riflesso guarda ancora va tutte tocche e poi eccola eccola dai ma guarda se si può eh no 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 non avevo più tutte quelle pensate eccola 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 adesso tra qualche lancio lo metto su anche io che tanto non c'è no voglio provare uno quello della dava voglio provare limola che non vedo più qua vuol dire che l'ho perso ah no è qua 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 ma è un'ancoretta o no? un'ardiglione no amo singolo senza ardiglione eccola oh Gesù madonna Gesù eh guarda tu mi dici nuovo che c'è quello che non avevo eh ma io non dico mica che non vada no eh eccola resta eh vai vai via vai vai via vai bastardo pensa alla libertà ahah corri libera e qua presto il cordone secondo me hai chiaffato paro 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 no eh io non l'ho contato ma non penso vai eccola oh è buona cattiveria guarda qua eh se non si slama si salta così questa è un spezzatura un po' un po' più interessante guarda che si è slamata guarda che si è slamata è giù tu hai voluto togliere l'olimola bella 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 un'altra quella grossa nel video che ti ho guadinato bella 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 eh bella vai 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 bella è un bel pesce no no però è bella che cos'è mi piace Con un'azione che in negozio non voleva nessuno, te le compro io! Mi ha regalato un compianto vero! A casa vengo io! L'aveva detto io! Eccola lì! Grazie! L'ho lanciato sulla bollata! Com'è? Normale! Meno che normale! Eccola! 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 C'è girata! Eccola! 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 così le buco tutte e poi eccola bella anche questa guarda se non si slama guarda lì è il mio? eh no se viene il problema è che guarda non sognare che sarà il tiro fuori a crank è vero? no non viene lei non è che vado io a guadinarla non si vuole fermare guarda lì ecco sapevo io ah ecco capito perché l'ho persa oh ho aperto l'amo è aperto ecco la ecco la è pieno tra un po' non stava visto quella macchina bianca spero eccola figa mi ha seguito mi ha dato subito e poi ho sbagliata piccoletta proprio ma piccoletta piccoletta proprio questa si o caro eh anche adesso l'ha dato la mangiata ma mi sa che si è punta ah ne abbiamo perse ti immagini anche qua che cazzo ho preso una foglia adesso no è un gigante è un trottolo è uno storione ma porca troia Pinocchio ho preso si può tenere no? si guarda dove cazzo l'ho preso? di fianco di fianco alla pinna oh ora si che si ride per i campi dell'amo sono 160 euro più uno che non dobbiamo più uno storione vai Pinocchio a spinning zio caro se la fu guardi non me la roteva pinocchiare la e le cali sei schifo ho fatto anche il Pinocchio ahahahahah questa la devi vedere questa voglio la foto qua eh Gino eh vabbè col Pinocchio a trottare al zio caro non capisco il caso aspetta dove ciappà si vede? oh si ahahah quando ci stanno aspettando tutti fuori ahahah ahahah eccola bravo oh no l'ho calmata ahahah ho preso la doppietta anche qui eh ahahah eh si certo ahahah che la prendo anch'io ahahah sei antistruttivo dai grazie ma se l'ho appena persa zio caro ti dà una mano vieni qua perchè è facile che perdi tutto no no minchia quasi la prendevo mi spiace vai tranquilli grazie che s***** un filo un filo con uno spoon uno spoon ma che questo è un buco di c***** eh ah è quello che ho perso io prima ah tieni tu no stai scherzando è uno spunnino un micro un micro eccola eccola ma che c***** ma che c***** sta succedendo hai visto pesce che si è morto quando ha ganciato questo tutti non mangiano e io avrò le mie tro... ohhhh ti ho detto che devo farla qua mi stavi davanti ahhh no ehi il crank rende ma ciao bello ciao alla prossima la felpa aspetta che c'ho la felpa io qua oh ci sei? ci sono ci sono lascialo l'audio lascialo l'audio ciao ragazzi giornata finita abbiamo fatto una marmellata di pesci praticamente abbiamo fatto 30 trote e uno storione a Guadino più non calcoliamo quelle perse almeno almeno in due una ventina di pesci perse forse anche di più almeno almeno 20 quindi anche oggi il lago maggiore il nuovo lago maggiore ha reso la grandissima erano un po' localizzate siamo partiti male ma abbiamo trovato il punto giusto abbiamo recuperato la grandissima e quindi a posto anche stavolta è andata ciao ciao